Ho deciso di salire in politica perché ero stufo di vedere un mondo politico non capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, perché ero stufo di vedere lo spettacolo della politica, perché stufo di promesse portate avanti da vent'anni a questa parte che non si sono trasformate in nessuna vera azione di governo per la crescita di questo paese.